Applausi E' lo spirito del garcofano del crecanico Volevo ringraziare la dottoressa Lava Battaglia per questa particolareggiata descrizione di ciò che la memoria ci ha tralasciato e che dovremmo oggi veramente portare a chi ha la necessità di acquisire queste dati Prima di dare la parola al signor Cuzzuccoli Domenico che è un amministratore del Consorzio Pio Assolberg e quindi che tratta nel tema Bergamotto perché Pio Io volevo ringraziare veramente di vero cuore tutti gli imprenditori che con grandi sacrifici cercano di valorizzare questo prodotto e di portarlo, di versarlo al mondo intero perché vedete che i sacrifici ci sono e qui ci vorrebbe ecco la tutela con grande forza cercate di non farvi scappare di mano questo perché vedete come essere nella comunità europea è una cosa giusta e bella però basta sentire e ascoltare un pochettino le notizie e ci importano tutto e ci fanno sotterrare i nostri prodotti tutelatevi questo prodotto perché essendo unico guai a chi ce lo tocca grazie e passo la parola come dicevo al signor Cuzzuccoli Domenico buonasera grazie a Rai per l'invito all'assessore Gandon e alla ricordazione linguistica per l'invito che ci ha fatto questa sera io rappresento rappresento il consorzio Bio Asselberg che è un consorzio di produttore di bergamotto biologico questo consorzio ha circa 15 associati che conferiscono normalmente ogni anno l'essenza di bergamotto che noi commercializziamo in tutto il mondo il consorzio nasce dall'idea del compianto del professor Antonio Familiari di merito portosalvo il quale ha voluto e ha cercato veramente con tutto il cuore fino alla morte, fino a quando è resta in vita perché ha voluto dare un valore aggiunto a lui l'essenza di bergamotto facendo in modo che venisse coltivato in biologico questo ci è stato dato anche questa opportunità ci è stata data anche da una visita che abbiamo ricevuto nel 1995 dalla fondatrice della Body Shop che è un Anita Roddick che questa Body Shop è una multinazionale che commercializza in tutto il mondo i prodotti cosmetici tra cui anche prodotti fatti a base del senso di bergamotto è una multinazionale che fa parte del community trade che è un organismo internazionale al quale aderiscono aziende che utilizzano prodotti derivanti da materie prime provenienti da zone depresse diciamo, o più o meno depresse cercando di fare in modo che il prezzo che viene corrisposto per queste materie prime sia molto valido abbia un certo valore infatti noi nel 1995 vendevamo l'olio essenziale di bergamotto biologico a 150.000 lire al chilo quando normalmente si vendeva a 20.000, 30.000 quindi a 18.000 un prezzo che non abbiamo messo noi abbiamo messo Anita Roddick proprio per cercare di valorizzare queste aree che producevano queste materie prime e che si trovavano in zone abbastanza, diciamo, depresse purtroppo, eravamo in una zona depresse poi c'è stato il problema che la Body Shop è stata assorbita da un'azienda americana ma fino ad allora, fino al 2003 la Body Shop era il nostro unico cliente noi vendevamo l'olio essenziale di bergamotto biologico alla Body Shop circa 4.000 kg di oli essenziale l'anno esclusivamente a questo cliente avevamo questo solo cliente purtroppo quando questo cliente poi è stato acquisito dagli americani ci sono stati problemi mentre nel 2003 abbiamo c'è rimasto in magazzino tutta la produzione e poi abbiamo dovuto cercare di trovare altri clienti ma è la cosa che è importante è che noi abbiamo valorizzato il biologico noi siamo riusciti a entrare nei mercati mondiali ormai da... perché poi dal 2003 abbiamo dovuto cercare di trovare altri clienti e ne abbiamo trovato tantissimi perché abbiamo fatto due volte la fiera di Marimberga e abbiamo fatto anche la fiera di Bartimora e da queste fiere sono venuti fuori tantissimi clienti abbiamo mandato campioni dappertutto e il nostro prodotto è stato apprezzato da tutti noi abbiamo avuto un cliente di Vancouver che non ha potuto comprare il nostro olio essenziale perché dal nostro campione ha messo in dubbio che fosse olio essenziale di bergamotto perché lui acquistava olio essenziale di bergamotto da dieci anni in America quando gli arriva il nostro campione dice ma siamo sicuri di questo olio essenziale di bergamotto? quindi cosa acquistava questo cliente di Vancouver? non è un nostro cliente perché lui aveva impostato tutte le sue macchine con quei prodotti e quindi non ha potuto acquistare i nostri prodotti noi vendiamo... il nostro prodotto viene utilizzato sia per quanto riguarda la Cosmesin quindi appunto per questo è importare qui perché è bio perché è importante utilizzare il prodotto biologico in Cosmesi perché la maggior parte dei prodotti sono a contatto diretto con la pelle e l'utilizzo di prodotti chimici l'utilizzo di massiccia di pesticidi provoca irritazione può provocare problemi alla cute viene utilizzato naturalmente oggi anche in prodotti alimentari viene utilizzato anche in gastronomia ecco perché il biologico è importante la nostra azienda era controllata dall'AEB quando l'AEB ancora era organismo di controllo oggi l'AEB è diventata solo un'associazione di produttori biologici mentre siamo controllati da ICEA che è nata proprio dall'AEB è uno degli organismi di controllo più importanti che ci sono in Italia noi siamo controllati sia nella fase di lavorazione di produzione sia nella fase di trasformazione sia nella fase poi di vendita di commercializzazione i prodotti vengono utilizzati abbiamo detto sia per quanto riguarda la profumeria perché l'olio essenziale di pergamotto con i suoi 354 elementi è alla base di quasi tutti i prodotti che hanno a che fare con la profumeria mentre è utilizzato anche in cosmesi poi per usare in cosmesi bisogna fare un altro procedimento perché dopo la produzione dell'olio essenziale ci vuole il procedimento di distillazione perché per i prodotti che vanno a contatto con la pelle e con il viso bisogna eliminare le focumarine quindi noi facciamo anche il defucumarineizzato che è un tipo di lavorazione che toglie le focumarine soprattutto il bergapitene che è il prodotto più fotosensibile e il prodotto più pesante dell'olio essenziale per cui nella fase di distillazione il bergapitene rimane a terra rimane nel recipiente, diciamo, nelle vasche e mentre il prodotto finale viene, sale su nella corona scende nella serpettina poi va a fare nel bicchiere e viene separato dall'acqua visibilmente è trasparente ma non proprio trasparente al 100% perché si nota la differenza che c'è tra l'acqua e l'olio essenziale che rimane a terra quindi ecco perché è importante il bioecolo il professore familiare ha creato questo consorzio che oggi ci sono dei conferitori anche di Buova Marina di Conto Fuli proprio perché ha voluto valorizzare il bio e noi abbiamo avuto delle grosse soddisfazioni proprio perché utilizziamo un prodotto bio proprio perché utilizziamo un prodotto naturalmente che è unico e che proviene da una zona grazie a tutti signor Kuzucoli Domenico prima di dare la parola alla dottoressa Francesca Manucci che è un'esperta in comunicazione e tratterà una didattica del bergamotto proprio parlando di bio è una cosa importantissima quando si parla di un prodotto della natura mi chiederei di dedicare una nostra situazione non solo al bergamotto qui mi ricordo alle grandi aziende ai produttori in generale di qualsiasi prodotto della natura diamo uno sguardo indietro e parliamo sempre di più della natura dei prodotti fatti con i mezzi naturali di una volta perché ormai l'aria è inquinata dappertutto e quindi che ben venga il bio per il bergamotto ma che ben venga il bio per qualsiasi prodotto che la nostra terra può darci quindi il frutto che può darci quindi passo la parola alla dottor Francesca Manucci Francesca scusa allora intanto anticipo non farò una didattica sul bergamotto perché non vediamo l'ora di andare giù a vedere la mostra il mio intervento sarà brevissimo Pasquale non c'è preferisco tanto mi sentite lo stesso mi ascoltate lo stesso allora io mi chiamo Francesca Banuccio faccio parte di una piccola associazione Mirantur Regium la cui presidente è qui seduta in sala noi cominciamo la nostra esperienza qualche anno fa e con Pasquale in queste ultime settimane e ringrazio Pasquale perché lui ha considerato valore il racconto l'esperienza il percorso che in questi ultimi anni noi abbiamo fatto con le scuole noi da sempre abbiamo promosso il turismo scolastico da sempre abbiamo promosso dei percorsi storico-culturali dal 2011 ci siamo imbattuti in questo bergamotto e mi piace raccontare la storia prima la professore l'assessore Nardi anche la maestra Francesca parlava di conoscere per tutelare ecco quello che noi cerchiamo quando cominciamo a parlare del bergamotto con i ragazzi e lasciare qualcosa il fatto stesso che alla fine di questo percorso un ragazzino mi dica ma questo bergamotto è viziato per tutto quello che chiede il bergamotto dal momento in cui si pianta eccetera oppure ma questo bergamotto è miracoloso oppure fanno a gara per prendersi il bergamotto mummificato che noi in questi ultimi anni produciamo perché io da novembre mi metto i miei bergamotti sulle menzioni lì mummifico il fatto che un ragazzino di Lamezia alla fine dell'incontro mi chieda ma io Lamezia posso piantare il bergamotto? ma io a Cosenza posso piantare il bergamotto? ovviamente no ma vuol dire che gli abbiamo lasciato qualcosa vuol dire che forse siamo riusciti a instillare quel famoso senso di appartenenza che a me è nato a 40 anni da dove tutto ha avuto inizio? il microfono io ho salito ah ok allora da dove ha avuto tutto inizio? tutto ha avuto inizio da Salina una società italo-olfertica decide di costruire una cittura a carbone a Salina Ionica a Salina Ionica che c'entra col bergamotto? non c'entra perché io pur vivendo a Reggio non avendo nulla a che fare con l'aria grecanica e le... no, com'è? come le gente ma poi non voglio imbattere io io vivendo a Reggio questa cosa la cominciavo a disturbarmi c'entra il carbone che c'entra il carbone? vado nel novembre 2010 alla prima assemblea e lì la mia consapevolezza si concretizza entro a far parte del coordinamento delle associazioni alle aree precarie che per rimanere la centrale al carbone di Salina Ionica e la centrale è questa quindi una cosa meravigliosa addirittura hanno pensato con il materiale che risulta di fare dei grandi passi per piantare il bergamotto ed ecco il bergamotto che subisce uno stop nel 2011 leggiamo che presso il museo del bergamotto ci sarà un convegno sulle virtù tragediche del bergamotto museo del bergamotto ma che cos'è? ma dov'è? a Reggio Calabria io non ne sapevo nulla andiamo lì con il no carbone per cercare di incontrare i produttori cercare di coinvolgerli nella lotta di incontrare le istituzioni e coinvolgerli nel nostro no e lì io scopro un mondo ma hai visto? nessuno sa cioè almeno io non sapevo che esistesse questo e quindi comincia la riscoperta perché in quella renella di cui tu hai parlato io ci giocavo da bambina mio padre faceva il meccanico di notte perché il processo di lavorazione non si poteva interrompere se la macchina si bloccava lui la riparava quel profumo a me dava fastidio perché tutti i giorni quello dopo non ne potevo più tuffo nella memoria 40 anni ripeto e quindi la vocazione agricola riscoprire io da adulta riscopro che questa Calabria questa regione questa provincia ha una vocazione agricola ha una vocazione naturalistica ha una vocazione che mira deve mirare la salva guardia dei territori quindi 20 dati i borghiantini eccetera e quindi arriviamo qui guardiamo il bussato del Bergamotto 2011 e la rassegna dell'archeologia industriale non sapevo neanche cosa fosse prendiamo un appuntamento col professor Caminiti colpo di fulmine nel 2011 portiamo 2500 studenti nessuno lo sa l'anno successivo 5000 l'anno ancora siamo arrivati a 7800 il professore decide di chiudere il museo ma noi che facciamo ci fermiamo assolutamente no diventiamo nomadi andiamo nelle scuole da Dinami a Merito a Motta San Giovanni a Santa Caterina e la cosa che ci dispiace è che abbiamo avuto difficoltà spesso nel nostro comune a non convincere i presidi ma quanto mai no a interloquire perché di Bergamotto ne sappiamo non ne sappiamo nulla noi questo abbiamo la consapevolezza ecco l'anno scorso e Pasquale Prenza l'ho incontrato per il non carbone noi ci conosciamo proprio per questo l'anno scorso piantiamo in collaborazione con Ailb ovviamente offerti da Ailb questi bergamoti c'è la settimana scorsa abbiamo avuto un gruppo di milanesi e si ragazzi di un liceo mi chiedevano ma perché in mia marina non esistono i bergamotti e io all'assessore Nedo fino al mese scorso ho continuato a chiedere ma perché non in estate le aranciamare di via Zeppi è una cosa semplice lo so grazie all'associazione Mondo Verde Greb che fa parte del continamento lo so siamo radicati nel territorio e quindi siamo nel 2016 il Milamare viene affidato ad un'associazione noi ancora itineranti ma diciamo grazie alle obbligine Milamare perché ci ospitano e ci danno la possibilità la possibilità di che cosa? di parlare di resilienza perché per noi il bergamotto è resilienza voglia di restare nonostante tutto nonostante i sabotaggi è voglia di restanza di restare in qua in questo luogo perché come diceva l'assessore Nadia ecco perché c'entra la carbone mio figlio deve decidere se andare o restare ma non perché costretto grazie ancora Pasquale ripeto il concetto bio dappertutto la natura deve essere salvaguardata adesso passo la parola allo chef Filippo Pogliando bravo sono io la tua crack sono io buonasera a tutti siamo nella parte gastronomica di questo bellissimo prodotto del bergamotto in maniera particolare il biologico lo usiamo in tutta la sua totalità partendo proprio dalla scorza perché dalla scorza possiamo fare delle infusioni prepariamo il liquore al bergamotto dalla scorza tiriamo fuori gli zeste che sono gli zeste sono dei filamenti che attraverso il riga limoni semplicissimo tiriamo dalle scorze degli agrumi e andare ad aromatizzare le nostre pietanze diventa davvero molto interessante negli ultimi anni ha preso molto piede la cucina di bergamotto negli anni passati si è sempre parlato di pasticceria perché magari il bergamotto si abbina molto bene al dolce eppure comincio ad avere questa certezza provata che il bergamotto nella cucina nel sensolato del termine si abbina davvero molto bene magari vogliamo preparare un carpaccio di pesce spada e invece di aromatizzarlo solo con il limone provate ad aromatizzarlo anche col bergamotto magari ci abbiniamo anche l'arancia di San Giuseppe è una di queste preparazioni che ormai sta piacendo molto non solo ai regini perché alla fine può anche capitare che il regino si scocci di sentire parlare sempre di bergamotto dice state mettendo sto bergamotto da tutte le parti fra poco lo assaggeremo anche nel caffè e vedrete che prima o poi ci arriveremo e allora magari dice mamma non ne posso più di bergamotto e proviamo a fare veramente di questa brume un utilizzo equilibrato perché in realtà è molto forte nel profumo è molto forte nel sapore e in tutto sta nel sapere equilibrare le dosi un olio essenziale in cucina se non fai attenzione distrugge completamente ogni sapore una scorza invece magari valorizza molto di più vi stavo accennando di questo carpaccio di pesce spada fatto con zeste di bergamotto zeste di arancia di San Giuseppe lo sapete che in Reggio Calabria esiste una delle arance più buone che viene prodotta nella nostra provincia l'arancia di San Giuseppe è un'arancia tardiva inizia o se ne dire a dicembre ce la portiamo fino a maggio anche in giugno è il limone di favazzina il limone di favazzina è un'altra grande specialità e con la scorza con queste zeste prepariamo una marinata succo di bergamotto succo di arancia e succo di limone facciamo riposare queste fette di pesce spada per almeno 24 ore 24 ore un pizzico di sale di pepe qualche coccia di aceto molto equilibrata molto parca e proviamo ad assaggiarlo ma anche un abbinamento in pasta dice la pasta col bergamotto ma che gusto può avere eppure posso dirvi che l'università di agraria ha voluto un poco sfidare questo concetto di gusto sul bergamotto e ci ha affidato un evento molto interessante che si è svolto qualche paio di mesi fa e ci hanno detto ci dovete preparare una cena che sappia solo ed esclusivamente parlare di bergamotto sinceramente ci ha messo non in crisi ma quello che ne poteva venire fuori era veramente un disgusto perché alla fine vi ripeto se non si fa un po' di attenzione magari il bergamotto disgusta e abbiamo tirato fuori un un piatto legato a un ragù di pesce spada un ragù di tonno salsa di pomodoro che abbina avendo salsa di pomodoro con bergamotto e abbiamo equilibrato molto bene qualche goccia di succo di bergamotto e sempre le scorzette messe alla fine perché in cottura altrimenti scaricano molto l'acidità e amaro ma lo stesso vale per i secondi è un contorno fatto con la polpa di bergamotto ecco perché dico che del bergamotto riusciamo ad utilizzarlo completamente tutto la scorza eliminiamo la parte bianca quindi la polpa lo tiriamo a vivo a pelle e lo possiamo condire secondo i nostri gusti e chiudiamo con il tradizionale dolce perché è verissimo in pasticceria magari il bergamotto si esprime molto ma molto bene uno dei piatti che in questo momento sta piacendo moltissimo a me alla mia brigata nel mio ristorante è proprio il profiterol alla crema di bergamotto e ci divertiamo tantissimo in questo cooking show perché davanti agli ospiti equilibriamo la preparazione e gli ingredienti per la preparazione di questa crema al bergamotto non usate molto zucchero non ha bisogno di essere dolce usate molto bene e molto equilibrato quello che è l'essenza l'olio essenziale usate quello di qualità usate quindi un prodotto biologico sono d'accordissimo e poi finiamo con le bevande al bergamotto perché oggi so che i ragazzi dell'istituto alberghiero di Gondofuri si cimenteranno nella preparazione di cocktail cominciamo a dosarlo anche in casa grazie a tutti grazie grazie sindaco Antonio Messina di Vila San Giovanni che ha avuto una bella idea e speriamo che altri sindaci di tutta la costa ne facciano uso di questa idea veramente grazie grazie assessore porto il saluto le città di Vila San Giovanni saluto lei assessore non è naturalmente a lei consigliere consigliere provinciale per Paolo Zeventieri sindaci presenti ho visto il sindaco di Montebello il sindaco di Locuti tutti i sindaci dell'area dell'amministratore dell'area ionica naturalmente lei mi ha anticipato quello che la mia esperienza è un'esperienza però nata da una condivisione con il territorio molte volte purtroppo i sindaci sono spesso presi dall'emergenza dal dover rincorrere non sempre riusciamo a programmare però quando dal territorio vengono delle idee dobbiamo acquisire quella capacità quantomeno di condividerle e di portarle avanti qui in sala c'è uno degli esponenti della social street di un'esperienza importante che è nata per proporre alla città dell'idea per migliorare il territorio una social street fatta da cittadini e che mi hanno proposto di realizzare nella mia città la via del Bergamotto con Pasquale Faenza che sono stato messo in contatto con Pasquale mi è stata data la possibilità di iniziare attraverso la donazione dell'istituto Aieb Calabria che ha donato alla città di Villa San Giovanni tre piante di Bergamotto e naturalmente non a breve coinvolgendo le istituzioni scolastiche realizzeremo questa questa quest'idea quest'idea che mi è stata portata avanti la professoressa Bellantone che è qui presente in sala dal mio geometra responsabile dell'ufficio il geometra Barresi che insieme a me realizzerà questa importante idea perché come diceva bene l'assessore Nardi che saluto è piena necessità da parte di noi amministratori di cercare di valorizzare anche tutto ciò che proviene dal passato e poi l'area nostra dello stretto ha una certa attinenza con 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 l'area ionica e con il Bergamotto non fosse altro che che il professore Vittorio Caminiti è un villese è lui che ha ideato il museo del Bergamotto e lui che l'ha portato avanti per tantissimo tempo uno dei degli esponenti del consorzio del Bergamotto il dottore Grispo è il villese il dottore Francesco Grispo e nell'area industriale Villa Campo naturalmente c'è una delle industrie della famiglia Capo che utilizza l'essenza del Bergamotto proprio per nell'industria dei profumi quindi un'attinenza è un collegamento è una sinergia una rete che è assolutamente importante da creare tra tutti i comuni della costituente della città metropolitana proprio per fare delle nostre dei nostri prodotti delle eccellenze dei nostri prodotti della terra un qualcosa che possa rilanciare i nostri territori io mentre sono qua nel mio territorio c'è l'assemblea nazionale dell'ONAB degli assaggiatori del vino stiamo valore domani avremo l'olio in piazza e Villa è famosa per la dolce la piparella allora si parte da questi prodotti per cercare di dare valenza ai nostri territori per cercare di ritornare alle tradizioni del passato valorizzando i prodotti che possono far nascere delle nuove industrie Villa San Giovanni così come la vostra l'area ionica Villa San Giovanni era definita la piccola Manchester era nota per il pacco da seta per la fabbrica delle pipe oggi di quell'arqueologia industriale sono rimasti solo i resti come diceva la dottoressa Battaglia come diceva la responsabile la dottoressa Straguzzi sono rimasti dei resti di arqueologia industriale delle bellissime ciminiere che noi cercheremo di valorizzare ma di quello è rimasta la storia però purtroppo non è rimasta non c'è segno della valenza industriale dell'epoca che portava nella nostra città che è naturalmente il terminale dell'Europa verso la Sicilia ad essere sicuramente conosciuta all'estero la piccola Manchester proprio perché nel nostro territorio era una famiglia inglese che produceva queste pipe e naturalmente portava una conoscenza del territorio dell'area dello stretto della Villa San Giovanni al di fuori dei confini comunali allora dobbiamo veramente partire dal passato per cercare di attraverso un coinvolgimento nelle scuole io sono d'accordo con lei dottoressa molte volte non sempre si ha la consapevolezza nelle dirigenti scolastiche sono tutte validissime dirigenti scolastiche che sanno programmare in maniera ottima la propria offerta formativa però non sempre recepiscono quelle che sono le offerte che derivano dal territorio dobbiamo partire da loro dobbiamo partire dai nostri figli per cercare di far assumere in loro la consapevolezza che è veramente importante riconoscere il valore dei prodotti della terra probabilmente la Calabria si salva se ritorna alla terra se ritorna alla valorizzazione delle cose importanti dei prodotti della terra perché con la terra probabilmente si avrà anche una rinascita in termini di ripresa occupazionale e poi naturalmente dal turismo visto la bellezza delle nostre coste quindi la mia è una piccola modestissima esperienza che volevo condividere con voi nata dal basso nata dalla società civile nata dai miei cittadini che naturalmente hanno visto in me sindaco protempore della mia città pronto ad accoglierla nella speranza che questo piccolo segnale possa essere un grande segnale per il futuro un grande segnale per poter veramente valorizzare i prodotti dei nostri territori e le eccellenze che noi abbiamo da far conoscere fuori dai confini comunali fuori dai confini della nostra regione e ringrazio tutti voi per l'invito sono veramente sono facci complimenti a te assessore per la valenza dell'iniziativa con l'invito a scambiare la cortesia nella città di Villa San Giovanni anche essa nota per prodotti altrettanto importanti per poter veramente diffondere la valorizzazione delle nostre eccellenze su tutto il territorio calabonesi grazie 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 stavo dicendo prima di passare la parola all'ultimo del relatore che è il dottore Francesco Uppiere si 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 facciamo finire i relatori che sono nella scaletta poi se vuole dire qualcosa però sempre il contenuto dei tre minuti non più di tanto perché la gente è stanca quindi giusto sì si si le signor Paolo Conso ok stavo dicendo prima di passare la parola a Francesco Rubieri buonasera a me volevo pregarvi e non andare via perché la cosa più bella è visitare sotto sia il museo dell'arte contenina che abbiamo inaugurato il mese di novembre di dicembre sia la mostra fatta dall'assessore del Comune di Reggio che veramente sono due cose eccezionali che si si incassano bene in queste iniziative per parlare di territori quindi per parlare di identità prego signori buonasera mi chiamo Francesco Rubieri sono docente presso l'istituto alberghiero di contofure di staccamento di ribolo a scuola parliamo di prodotto parliamo di qualità parliamo di caratteristiche organolettiche a questo punto mi viene spontaneo dire parliamo di bergamotto il bergamotto si può piantare ovunque se si segue una certa procedura ma è vero è vero anche che le caratteristiche organolettiche che il bergamotto acquisisce in questa zona in questo territorio non le acquisisce in nessun altro territorio e questo bisogna valorizzare tutto il compressore della provincia del Giacalabria perché il microclima va a favorire questo prodotto sul profumo sui polifenoli e quant'altro la villa San Giovanni questa è la zona questa è la zona tutta ci sono altre zone sì però la Sicilia non è riuscita a fare l'Israele non è riuscita a fare la vostra d'Avorio non è riuscita a fare stiamo dicendo che il suo intervento l'ha fatto ha finito quindi non la faccio parlare sono a fare grazie prego grazie quello che stavo dicendo appunto le qualità organolettiche che è la crume in questo caso acquisisce in questo territorio non l'acquisisce negli altri e questo è già un punto a favore nostro per creare sviluppo come ho già detto voi e per creare diciamo originalità nel nostro territorio ma è vero anche che il certificare l'essenza così troppo forte grazie certificare l'essenza secondo me non basta bisogna certificare di per sé la crume in modo tale che si possa diciamo produrre in tutto il territorio e soddisfare una futura richiesta da chi ne usufruisce torniamo alla mia materia non voglio essere diciamo dare io spero di dare solo degli input in modo tale che si possa accrescere su questo prodotto e sul territorio noi a scuola come dicevo prima parliamo di prodotto di prodotto dove andiamo alla ricerca della qualità insieme ai colleghi di scuola abbiamo fatto delle scelte oggi da presentare abbiamo iniziato diciamo da un cocktail che la sua origine è originale appunto da Cuba e si chiama Cuba Libre questo cocktail ha una storia come tutti i 70 internazionali anche se poi col passare degli anni hanno avuto delle evoluzioni quando parliamo di cocktail la prima cosa che indichiamo agli alunni è saper miscelare non esagerare con l'alcol ma fare un mixage di profumi di colori e di in base a quello che si vuol preparare se è un cocktail alcolico un alcolico e quant'altro di bilanciare i prodotti per evitare appunto l'eccesso dell'alcol ed educare prima chi sta dietro il banco educare contemporaneamente il consumatore al saper bere che purtroppo oggi come oggi non c'è questo i giovani tendono solo a pregarsi e neanche a degustare quello che si serve torniamo al Cuba Libre nasce a Cuba nel 1858 abbiamo la mia allieva e mi facciamo un applauso di incoraggiamento nasce con un episodio a quei tempi Cuba era diciamo invasa dagli spagnoli gli Stati Uniti si allearono ai cubani per togliere questa egemonia vinsero e per festeggiare vogliono trovare una bevanda che poteva sposare i due popoli a Cuba hanno scelto il day gear non è altro che rum sciroppo di lime succo di lime no sciroppo succo di lime e sciroppo di zucchero gli statunitensi invece utilizzarono la Coca Cola volevano unire questi due prodotti per rendere originale e dare appunto una svolta al territorio e crearono appunto questo Cuba Libre noi quest'oggi questo cocktail l'abbiamo chiamato Calabria Libera perché Calabria come posto originale è libera da tutto ciò che fa male e valorizzare il nostro prodotto il Cuba Libre ha un senso Cuba come posto vi ho detto è libera Libre come libera ecco perché abbiamo identificato questo cocktail e spero che possa prendere piede da poter dare ancora più importanza di quello che avete dato oggi in questo convegno a questo 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 un applauso un applauso questo è un cocktail che si consiglia principalmente ai giovani il successivo corrumpo i giovani è un po' sì eh no corruno e bravo Libre il secondo cocktail che stiamo si accingono adesso i ragazzi a preparare e abbiamo il nostro caro Pietro è il margarita come ho detto prima ogni cocktail ha una storia il margarita nasce il Messico il Messico è una zona laddove si produce un distillato importante che è assegnato anche la storia dei cocktail che è l'agave o meglio il il tequila che deriva da un distillato di agave in base alla zona di produzione questo distillato cambia il nome se lo si produce a sud viene chiamato il tequila se lo si produce a nord viene chiamato diversamente il mexcal che lo distingue contemporaneamente anche da un bago che viene messo all'interno della bottiglia che spesso e volentieri per incentivare le vendite di parma dietro al bago quando arrivano all'ultimo bicchiere all'ultimo cicchiettino lo vendono all'asta e lì nella cottura messicana c'è questa questa voglia di bere di spendere anche qualcosa in più per diciamo avere la possibilità di bere quell'ultimo quell'ultimo bicchiere di tequila con dentro diciamo questo bago il tequila nei cocktail viene identificato come un crusta perché crusta? perché come avete visto il nostro caro Pietro l'ha immerso prima in un succo e poi successivamente in un'altra base la base che può essere sia zucchero che sale siccome la tradizione vuole e il distillato lo richiede anche l'acido acidico del lime l'abbinamento con il sale il margarita in Messico si prepara o meglio in tutto il mondo con diciamo in bere l'orlo di lime e successivamente abbinare il sale noi l'abbiamo variato anche questo cocktail l'abbiamo chiamato bergarita l'abbiamo chiamato non margarita ma bergarita bergarita e come crusta abbiamo utilizzato del concentrato di bergamot questo cocktail si dedica alle donne la storia questo ci insegna un barman in Messico si innamorò di un'attrice hollywoodiana che appena la vide si innamorò e volle presentargli questo cocktail alcune storie narrano questo altri invece narrano che questa attrice hollywoodiana si ricorda dal barman e gli chiese un cocktail lui gli propose il white lady siccome il white lady c'era del gin gli chiese una variante anziché utilizzare il gin certamente può inserire un altro distillato il tequila e allora da quel giorno questo cocktail lei si chiamava purtroppo la merior che in gergo significa o in messicano significa margarita e da quel giorno quel cocktail venne chiamato margarita bravo questo si prepara direttamente nel frullatore vengono utilizzate le fragole fresche e poi si inizia diciamo a versare e come conseguenza tutti tutte le altre bevande partiamo dal suo quadrancio passiamo all'ananas il nostro bergamotto concentrato di bergamotto e per togliere un po' di acidità perché è molto astringente e molto acidulo aggiungiamo un po' di sciroppo di zucchero che si prepara con molta facilità basta solo dell'acqua e dello zucchero le percentuali sono 2 di zucchero e 1 di acqua sul centro si mette direttamente nel blender si porta a collare fino a quando si scioglie tutto il piaccio non si sente diciamo quel rumore che si può sentire poi nell'andarlo a bere a ostacolare diciamo il passaggio nella caduccia e poi andiamo a servire direttamente nel bicchiere noi per curiosità l'abbiamo fatto assaggiare oggi a alcuni colleghi e sono rimasti molto soddisfatti andiamo a guardire con con della con della fravole con un cifretto di menta sopra questo cocktail questo cocktail l'abbiamo chiamato Ionicberg e grazie bellissimo grazie adesso prima di chiudere ringraziamo tutti i ragazzi ringrazio di nuovo tutti gli imprenditori presenti che hanno nell'esposizione quindi vi invito a visitare quindi vi invito a visitare per comprendere ciò che loro riescono a tirare fuori da questo da questo prodotto quindi da questo punto quindi vi prego fate la portezia di di quindi quindi concludiamo con un'altra canzone della nostra prestia e ringrazio tantissimo l'associazione Cowise per questo evento e per il progetto in generale che ha curato grazie no 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 dopo dopo della della prestia se vuole può dire la sua però un minuto grazie grazie per chi non lo sapesse è stata composto da nostr'angelo più sano di orgoglio e petronio palustino di Boba Merita un po' d'amore che ti andi in uscìa cercate ben in cato sto in ghiallò ciò la trasparia tiene di spamena per condo ceppino che ci onerò per la e la muconda diego in manacom è la e la muconda diego in manacom Saler che teomina tu ma io O rosso cosmo bene e cloro C'è il trago che osiola da potia E a te ameno ton calonquero Ela era muconda Tiego e me manacò Ela era muconda Tiego e me manacò E a te ameno ton calonquero Develo ten a paloche ten a piro E a te ameno ton calonquero Vieni, vieni a me vicino E io sono solo E a te ameno ton calonquero Tiego e me manacò E a te ameno ton calonquero Tiego e me manacò E a te ameno ton calonquero E a te ameno E a te ameno ton calonquero E a te ameno ton calonquero abbiamo dato la prova no 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 questa è una cosa greca e io veramente non mi sento ma mi sento parte della cosa e il motivo perché io parlo la gente pensa che io sono cattivo questo non conto per le opere che qualcuno vuole realizzare non vuole me ne assorciate quando c'è ma non c'è greca non c'è nessuno grazie grazie alla signora che la ringrazio veramente che è stata brava. Anche, anche, devo chiedere un'altra cosa, ho detto grazie alla signora, però non ci manca una cosa, ma al posto di mettere i peccioni lì alla televisione nostra, per fare il video, possiamo mettere un ragazzo di pomo marini, ci sono i muscoli lì, perché voi abbandonate la nostra cultura per tenere tanti ore, metti anni fa qualcosa da lui, sapete che è capente che è stato questo? Almeno luce mi fa un giorno, mi dice, ma che non accorgi lì, c'era una salute, una barra per tu, sì, ma tu mi diventi di 50 anni nella nostra storia, nella canzone che hai capito il calabrio, lasciamo prendere questo, allora ringraziamo il corno di quella signora, e ha cantato bellissimo, l'ha cantata veramente, come possiamo dire, un tonto, un amore, però non teme soltanto la signora a cantare dentro qui dentro quanti ci sono non scappate dovete vergogliarli per andare via o dovete dire la nostra lingua è morta sapete perché è morta? perché hanno inserito dentro la nostra comunità altri fattordici comuni sapete il motivo perché loro non vogliono venire qua che tipo la lingua? per avere più risorse della comunità europea mentre la lingua nostra muore i sportivi di questi hanno messo la lingua di ragazze estrarre la nostra cultura hanno mandato via non so che stanno perché non lo sento il professore di ora lo sapete il professore di ora prende il ricercatore il re di madrelingua è un simpatizzamento ha scritto tante vite noi dobbiamo fare innaziane ma il re di madrelingua perché non ha tolto i ragazzi i ragazzi già no e dirlo a Bubi l'assessore lei la parma è anche sua l'assessore lei io lo ritengo un assassino della nostra cultura grazie perché lei ha inserito l'assessore speriamo che non l'ho condannato l'assessore io tu te l'avete come male si è dimenticato io le ho fatto la cortesia anche non potevo anche non farlo però possiamo possiamo dire possiamo è morta la lingua greca sì o no? non è colpa mia se è morta lì io ho fatto di tutto per cercare di coordinare le cose di dare un segno è un senso alla grande confusione che c'era su questo sono stato poco compreso spero però di non aver lasciato un segno negativo per le mie azioni assessore adesso è pure che io sono un rispogliere della società civile e lei è l'assessore alle minoranze di l'invito della politica della giocologica dovete pensare che c'è un rappresentante che è a te come mai mi chiamano mai assessore? chiama sempre sindaci chiama sempre persone strane a questo punto va bene grazie ricordatevi che noi siamo grecofoni e la rimanenza è gionica ciò che chiamano noi la meccanica è soltanto gionica grazie non siamo grecofoni perché è da un conto muri in su che abbraccia a pova marita e che abbraccia a pova superiore non importa che hai dici o no è sola greco grazie 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 e n'è mai traguta o traguta metti in gardia scopuma fuego ienitina spera sangu ma merle postone rococumano e ci larga o temu iati e kamatundoni progira terizze mu matriya rocchumana konai terizze pudi kumukuma in me trego a zingarabia mago i pocosa troppo tu recusi si me dego in tigela mia te dego na trago mio tu recusi tu recusi mago ienitina mago ienitina te dego in tigela su mago ienitina mago ienitina Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.